Eccoci qua, oggi pagelle del centrocampo dell'attacco e ovviamente dell'ex allenatore, ex allenatore della Juventus, quello di questa stagione. Benissimo, mando agli indugi e partiamo subito perché abbiamo abbastanza giocatori di cui parlare. Allora, Locatelli. Locatelli, l'ho detto e l'ho ripetuto, è una mezzala, una discreta mezzala, una mezzala che nel Milan ha fallito, che ha fatto abbastanza bene nel Sassuolo. Abbiamo visto nella Juventus che Locatelli non è all'altezza della maglietta che indossa e soprattutto è stato depauperato il suo valore come giocatore dal tecnico juventino perché non essendo un playmaker, facendolo giocare in quella posizione in cui ha ruolo, lo ha praticamente distrutto. Locatelli ha fatto una stagione orribile. Pensate che quando in Coppa Italia è mancato e quando con la Lazio è mancato, Nicolussi Caviglia al suo posto ha fatto vedere che è di tutto un altro valore e di tutta un'altra pasta. Per cui i 38 milioni circa che sono stati spesi per comprarlo sono ennesimi soldi buttati nel cesso da Fabio Paratici e la compagnia cantante con cui lavorava. Quattro a Locatelli. Io spero che Locatelli possa trovare una collocazione in qualche squadra di medio classifica, che è la sua collocazione ideale perché secondo me nella Juventus se arriva un allenatore che un pochettino capisce di calcio, il campo lo vedrà poche, poche, poche volte. Miretti. Allora, su Miretti c'è da fare un discorso molto semplice. È un raccomandato, lo sappiamo tutti. Ha lo stesso procuratore che aveva Allegri, che ha Allegri perché Allegri non c'è più, ma comunque che ha Allegri, e credo che lui abbia giocato nella Juventus solo per questo motivo. Spero che qualche squadra, se sia fatta imbambolare, ci sia cascata nel tranello e che lo voglia, perché secondo me Miretti è il primo giocatore da vendere da parte della Juventus. Se offrono 10 milioni vanno bene anche 10 milioni. Chiaro che spero che ne offrano di più, si parla di 20 circa. Sarebbe oro colato quello che si porta a casa per Miretti, perché Miretti è un giocatore improponibile. 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 Avrà fatto tre o quattro cose buone da quando è alla Juventus. Per il resto cade per terra appena lo toccano, perde palloni, sbaglia i passaggi, non sa fare i lanci, quando è davanti al portiere tira delle mozzarella. Cioè, veramente un giocatore... Io mi domando come sia possibile che uno come Miretti sia arrivato in prima squadra. Sono quelli che io chiamo i miracolati del calcio. I miracolati del calcio. Miretti è un giocatore imbarazzante e non gli posso dare più di due. E sono generoso oggi. Mi sento Babbo Natale. McKennie. McKennie è il giocatore che io in assoluto nelle stagioni precedenti, da Pirlo fino all'anno scorso con Allegri, la stagione passata, ho criticato forse più di tutti. Lo chiamavo Paninaro, vai a vendere i panini, non sei un giocatore di calcio. Ebbene, qualcosa è accaduto, perché l'esperienza che ha fatto a Leeds lo deve avere in qualche modo maturato, segnato, non so che cosa, perché quest'anno McKennie è stato di gran lunga, e sottolineo di gran lunga, il miglior centrocampista della Juventus. Alto a destra, interno di centrocampo di destra, ha fatto cross, ha fatto assist, purtroppo non ha fatto gol, peccato, perché negli anni passati li faceva, ma preferisco un McKennie che serve palloni e che aiuta la squadra, che non fa gol, piuttosto che un McKennie che faceva gol, però poi non serviva un tubo, perché era uno che girava per il campo. Una cosa che mi ha fatto molto piacere, è che quando lui ha spiegato il perché dei suoi cambiamenti in meglio, ha detto, non sapevo come muovervi, non sapevo cosa fare, non sapevo dove andare. Io, se ricorderete, chi ha seguito il mio canale, dicevo che era uno, che era un turista per caso, che girava per i cazzi suoi per il campo. Quindi mi fa molto piacere che McKennie la pensava come me, e non lo potevo sapere. Quest'anno, invece, ha fatto un signor campionato, e si merita tutto, 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 glielo do con il cuore, sette, sette a Weston McKennie. McKennie non so se resterà, ma se resterà e giocherà così, sarà tanta roba per la Juventus, perché è uno che, tra l'altro, ha imparato anche a proteggere il pallone, difendere e dare una mano in difesa. Kostic, eccolo qua, quell'altro, quell'altro. Allora, Kostic deve fare un monumento a tutto sport, perché se Kostic non ha giocato più nell'Entrach-Francoforte, una squadra anonima della Germania, ma è assurdo alla fama, andando a finire in una delle squadre più brazionate del mondo, perché che se ne dica, la Juventus è una delle squadre più brazionate del mondo, deve ringraziare tutto sport, e soprattutto gli incompetenti che c'erano alla Juventus l'anno scorso, ovvero Arriva Bene, che di calcio capisce zero, Cherubini, che probabilmente capisce di giovani, ma non ha tanto, e di Aned e di Agnelli, che ci sono cascati, ci sono cascati il più grande corsatore dell'Europa League, come se l'Europa League fosse la Champions, e l'hanno comprato. Uno che a 29-30 anni gioca nell'Entrach-Francoforte e non se l'è mai cagato nel Dortmund, nel Bayern, nel City, nel Real, qualche domanda qualcuno se la doveva fare. E si è visto, l'anno scorso ho fatto una discreta stagione, niente di che, niente di che, quest'anno è stata una roba, era un danno, era un danno, mentre Mieretti è scarso e ha giocato male, Locatelli è scarso e ha giocato male, va bene, mentre Sandro è stato, fortunatamente impiegato poco e ha fatto dei danni, questo ci ha fatto giocare in inferiorità numerica tutta la stagione. Voi fateci caso, tutte le volte che veniva tolto e al suo posto entrava Hilling o spostava, cambiato a sinistra o metteva qualcun altro, la Juventus cambiava marcia. E lui che è il più grande discepolo di Sandro perché anche lui si è applicato al rugby con i piedi. è il giocatore che ha fatto quest'anno, perché ha giocato molto più di Sandro, più passaggi all'indietro di tutta la squadra Juventus. Giocatore improponibile che non vedo l'ora che si levi dalle palle insieme a Sandro. Due. Rabiot. Allora, Rabiot l'anno scorso ha fatto una stagione strepitosa, strepitosa. Giocatore che è esploso a piena maturità calcistica. Quest'anno ha fatto un inizio molto, molto buono come l'anno scorso. Dopo un infortunio è calato, però nelle ultime partite è ricresciuto. Rabiot messo in un centrocampo che propone calcio è tanta roba. È tanta roba. Non so se rinnoverà perché è andato a scadenza di contratto. Io confido molto nel fatto che lui nella giovanità del Paris Saint Germain è stato allenato proprio da Tiago Motta e che abbia un buon rapporto con lui e che Tiago Motta lo convinca a restare. Io credo che stia prendendo tempo proprio per questo. cioè Rabiot penso che sia in ansia come noi per sapere chi allenerà la Juventus. Se Sarati a Gomotta spero che resti perché Rabiot messo in un centrocampo di gente che sa giocare a calcio che ovviamente il buon giunto li dovrà comprare in aggiunta a fagioli che non c'è ovviamente nelle pagelle perché non ha mai giocato su cui però io confido molto. Io credo che Rabiot meriterebbe di restare e di fatti quest'anno gli ho dato 6,5. Un po' meno dell'anno scorso ma un 6,5 solo merita tutto. Ora veniamo a Nicolussi Caviglia l'ho detto prima è stato impiegato pochissimo Allegri l'ha sempre definito il vice Locatelli e quando è stato il vice di Locatelli ha sempre figurato bene ha sempre figurato bene cioè ha sempre fatto meglio di quello che Allegri considerava titolare ovvero Locatelli per cui spiegatemi un po' come ragionava il nostro tecnico. se tu hai uno che è il vice che gioca meglio del titolare il titolare diventa vice e il vice diventa titolare ok? Però Allegri queste cose mi spiace non ci arrivava non ci arrivava era limitato è un uomo limitato Allegri è talmente preso da se stesso dalla sua arroganza dalla sua presunzione che non vede i propri limiti e non vede i limiti che ha messo in questa squadra Nicolussi Caviglia si stramerita un 6,5 in bocca al lupo perché pare che verrà girato ad altre squadre ora veniamo a quello che doveva essere un acquisto beffa secondo molti giuventini allegriani dei miei coglioni cioè Alcaraz Alcaraz è stato fatto giocare malissimo e poco ad Allegri però tutte le volte che è stato messo in campo il suo l'ha fatto è un recupero a palloni passa la palla sempre al giocatore della propria squadra smarcato non va a dar palloni come fa Locatelli a cui l'ho marcato da tre e poi gli portano ovviamente via il pallone non viene anticipato per cui la sua sufficienza ok per quel poco poverino che ha giocato probabilmente non verrà riscattato perché costa troppo io gliela do perché gli devo dare l'insufficienza non è colpa sua se Allegri lo utilizzava male e quasi mai 6 Healing Junior Healing è uno di quei giocatori su cui io puntavo tantissimo tantissimo sono sempre stato un fautore di Healing al posto di Kostic e Healing è meglio di Kostic mille volte però non so se per motivi di concentrazione perché non si sentiva titolare ha alternato buone partite a partite meno buone non ha fatto partite pessime o super partite è stato un po' tra coloro che sono sospesi tra il 5 e il 6 ma siccome ha fatto delle buone giocate in alcune partite che ci hanno dato una mano a fare dei punti gli do 6 però è un 6 molto molto striminzito lo dico prima lo dico prima però un 6 glielo do ora veniamo all'attacco veniamo all'attacco partiamo con Fede Federico Chiesa allora detto che Federico Chiesa scusate detto che Federico Chiesa è il giocatore più talentuoso insieme a quello che mi sono dimenticato ieri e chiedo scusa che è Bremer che darò a fine di video lo dico prima chiedo scusa ieri nella confusione ho detto tutti meno Bremer per cui chiedo scusa dopo vi spiego di Bremer forse merita anche un capitolo a parte probabilmente Chiesa dice uno dei giocatori più talentuosi della Juventus ha alternato partite strepitose vinte da solo a partite pessime io credo che però le partite pessime siano dovute al nervosismo di questo giocatore che non si sentiva come secondo me doveva essere titolare fisso della Juventus Alleglio l'ha sempre messo in discussione e lo ha sempre tenuto un po' a margine per cui credo che questa cosa abbia influito negativamente a livello mentale sul giocatore la qualità del giocatore non si vede avremo un europeo per giudicarlo in maniera molto più completa per cui io a Chiesa devo dare massimo 6 di più non posso dare avrei voluto dargli molto di più sono sincero ora veniamo Vlaovic Vlaovic non posso non dargli 7 capo cannoniere 18 gol tra Coppa Italia e campionato le Coppe Europe non le abbiamo fatte probabilmente se avessimo fatto le Coppe Europe sarebbe arrivato tranquillamente a 20 un centravanti che ti fa 20 gol in una stagione non puoi giudicarlo negativamente l'hanno criticato perché non stoppa bene la palla ma avete visto come gli danno il pallone dei siluri gli tirano provate voi che siete tanto bravi che parlate a stoppare un siluro se ci riuscite neanche Maradona ci riusciva neanche Maradona neanche Platini cioè un conto se gli dai un pallone normale ok in corsa normale un conto se gli tira una pallonata addosso e poi chiaramente quando si sa che un giocatore è forte che può farti gol lo marcavano in tre palloni serviti quando era marcato da tre mai quando era smarcato libero davanti alla porta perché magari c'era l'egoismo degli altri per cui io considero Vlaovic un centravanti molto forte so che la pensa così anche Tiago Morta mi fa molto piacere se verrà lui per cui io Vlaovic do sette pieno Milik Milik ha fatto un inizio di stagione buono poi si è fatto male e quando è tornato è stato inguardabile roba da dire ma cosa è successo a Milik perché io sono sempre stato un estimatore di Milik cosa è successo ad Arcadius poi ragazzi appena evidentemente essendo un umone un bestione appena la forma fisica gli è tornata non ha più sbagliato una partita super partita in Coppa Italia ci ha fatto passare il turno lui ha fatto ottime partite in campionato quando è stato messo in campo è uno che difende bene il pallone aiuta la squadra a salire per cui un bel 6 e mezzo io lo do col cuore in mano meritato quindi ho cancellato tutte le prestazioni negative che ha fatto perché capivo che era un problema fisico 6 e mezzo a Milik ora veniamo a Kenan e a Ken scusate non Kenan a Ken Lapsus è il terzo dei cessi giganteschi che abbiamo in questa squadra ne abbiamo parlato ieri di Sandro oggi vi ho parlato di Kostic e di Miretti quindi è il quarto non il terzo chiedo scusa il terzo di oggi il quarto nell'insieme appunto giocatore imbarazzante pensate che lui quest'anno io non so cosa fare la domenica con il Monza ma non conta perché è una partita inutile non ha fatto neanche un gol un centravanti che non ha fatto neanche un gol hanno fatto più gol di lui Rabiot Gatti Bremer Chiesa Milik che non ha quasi mai giocato chi potrei dire Cambiaso cioè ma stiamo scherzando stiamo Locatelli addirittura ha fatto un gol più di lui un gol cioè giocatore imbarazzante veramente due non voglio neanche parlarne ora parliamo del numero 10 del futuro che speriamo che non gli porti eronia perché chi ha indossato la 10 dopo del Piero mamma mia stendiamo velo pietoso non è andata bene a nessuno Kenan Ildis per me Kenan Ildis è un potenziale fuoriclasse ha bisogno di un allenatore che lo faccia crescere e lo porti ai massimi livelli io credo che con Tiago Motta Kenan Ildis potrà diventare uno dei giocatori più forti del mondo è stato fantastico utilizzato male e poco da Allegri tanto per cambiare colui che valorizzava i giovani di sta cippa lippa per cui io a Kenan Ildis do 7 strameritato confido che l'anno prossimo ci farà lustrare gli occhi con delle super giocate prima di dare il voto ad Allegri ovviamente perché glielo devo dare chiedo scusa l'ho specificato nei commenti ieri molti mi hanno chiesto ma Bremer 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 ragazzi può capitare anche io non rifaccio i video per un giocatore che mi sono dimenticato l'ho inserito oggi nell'attacco Bremer prende 8 è stato in assoluto il giocatore migliore di tutta la rosa non ha sbagliato praticamente una partita è un muro spero che la Juventus non lo ceda perché francamente Calafiori sarà bravo Wisen sarà bravo tutto quello che voi volete ma se noi ci priviamo di uno dei difensori centrali più forti del mondo siamo veramente dei pirla dei rossi pirla Bremer è uno che ti dà una garanzia incredibile di non far segnare i grandi talenti l'anno prossimo giocheremo in Champions League e in Mondiale per Club e lì ci sono i centravanti forti c'è Kane c'è Vinicius cioè ce n'è tanta di roba da fermare per cui io penso che Bremer sia fondamentale ovviamente 8 perché di meno non si poteva dare a un giocatore così ha fatto anche dei gol importanti per cui infine parliamo di Allegri scusate se mi sono dilungato ma c'erano più giocatori oggi di cui parlare Allegri ovviamente gli do 2 avrei voluto dargli 0 che è il voto secondo me che contraddistingue questo triennio pessimo della Juventus però siccome l'ha preparata bene la finale di Coppa Italia perché gliel'ho riconosciuto elevo lo 0 a 2 però un allenatore che viene richiamato perché Pirlo non ha vinto lo scudetto ha vinto solo la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana al primo anno e ha qualificato la Juve in Champions League al primo anno cioè praticamente uno che ha fatto nettamente meglio di lui in 3 anni perché in un anno Pirlo ha fatto meglio di lui in 3 anni non posso dargli più di 2 sono contentissimo che non c'è più io non ho nulla contro la persona perché non la conosco personalmente ma come allenatore mi aveva già stancato dopo 6 mesi del primo anno del ritorno per cui sono contentissimo che non c'è più ovvio che mi auguro che non venga una ciofeca perché non voglio passare l'anno ad attaccare l'allenatore che verrà la Juventus spero che venga uno che capisce di calcio e che ci faccia vedere qualcosa di buono verrà criticato quando sbaglierà è ovvio perché siamo qui per quello ma spero di poterlo applaudire e complimentarmi con lui quando farà grandi cose con Allegri quest'anno mi sono complimentato poche 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 volte due o tre poi per il resto fallimento totale bye bye Allegri vi saluto e come sempre ci vediamo sul canale ciao ciao